dal campo direi proprio di sì, questo tocco che ha fatto prima sul corpo non credo ci sia stato anche dal replay non si vede, credo che sia rigore nettissimo prossimo però il fatto di questo episodio non c'è visto che vada un po' ad oscurare quella che è stata una prestazione e non sicuramente le migliori perché alla fine ancora una volta hai fatto una fatica ma tra i mei già siete dovuti andare a rimontare il campo Purtroppo quando incontri queste squadre che giocano uomo contro uomo e giocano tutto sulle seconde palle è normale che ti portano a giocare così male, purtroppo ti devi adattare e cercare di sfruttare al massimo le piccole occasioni che ti danno perché giocando così ti limitano molto Purtroppo siamo stati sfortunati a prendere quel gol che sicuramente non meritavano e da lì però ci è scattato qualcosa che ci ha dato molta più forza da cercare di rimontare abbiamo dato tutto e siamo stati bravi a recuperare la partita e anche a rischiare di vincere per la sua team Il tuo gol è stato un gran bel gol, ho avuto l'impressione nel seguire la dinamica dell'azione che l'avete proprio voluto, l'avete cercato, come Tramoni ha recuperato questa palla come Bianchi interlata e poi anche la freddezza di metterla là che non era semplice da fare No, chiaramente chiunque entrato in campo ha dato tutto per cercare di rimontare questa partita lo volevamo fortemente e l'azione dal gol ha fatto vedere questo e lo stesso anche negli ultimi 3-4 minuti finali abbiamo cercato di mettere più palle dentro l'area e abbiamo rischiato più volte di fare gol quindi il segnale l'abbiamo dato Quanto avete vissuto questa settimana e ti chiedo anche l'applauso di quando Inzaghi è tornato mercoledì che avete fatto con la squadra e la dimostrazione che siete tutti col mister e questo è il mister che volete? Chiaramente è stata una situazione che ci ha preso un attimo sprovvista però noi eravamo collegati alla partita l'unica cosa che pensavamo è allenarci bene e aspettare oggi la partita la testa era solamente lì, il mister ci ha dato la forza e abbiamo cercato di fare quello che ci ha dato lui E' una squadra che tutta col mister? Chiaramente sì, il mister è il nostro allenatore e noi cerchiamo di dare il 100% per lui Grazie